Questo è 3 per te Fassina, tre auto scelte per voi ogni giorno dal Car Village. Oggi ci concentriamo sulle Polo, guardate che meraviglia, questo 1000 benzina, 65 cavalli con soli 42.000 km, con il clima, cruise control, vernice che è una extra serie, sensori parcheggio, anteriori e posteriori, e la radio, garanzia 12 mesi, 15.900 euro. Ci spostiamo di fianco perché ce n'è un'altra gemellina rossa, sempre a 15.900 euro, 47.000 km percorsi, 1000 benzina anche lei, stessi optional, come dicevo, gemello anche il prezzo 15.900. Un'altra Polo rossa, sempre con 1000 benzina a 65 cavalli, vettura che ha percorso solo 30.000 km, anche lei ha il clima, cruise control, cerchi in lega, bluetooth, radio, sensori parcheggio, anteriori e posteriori, pochissimi km, ve l'ho appena detto, 30.000 ribadisco, il prezzo è 16.900 euro. E dal salone del Car Village Fassina per oggi è tutto, ci vediamo domani, stessi canali, stessa ora, preparati.